Dottoressa Paulica, la disaffezione degli elettori, anzi scusate, verso la politica non nasce ieri. Qual è il suo punto di vista sulla questione e come fare per risolvere, come riportare la maggior parte degli elettori alle urne, specie in una consultazione di carattere comunale? Non nasce ieri e le stesse difficoltà che ha rappresentato qui poco fa il candidato sottile, le ho vissute io in prima persona anche due anni e mezzo fa, questo non ci ha affermato, ci ha portato anzi ad essere ancora più presenti e a convincere le persone che il momento decisivo è invece proprio quello del voto. Per quello però bisogna essere anche sinceri, io sono tornata, come è stato detto, non sono tornata in posti dove non ero mai stata in questi due anni e mezzo, perché se c'è una cosa che ci ha caratterizzato come amministrazione è stata quella anzi di fare più incontri periodici in tutti i quartieri. Certamente quello che è accaduto negli ultimi periodi invece erano stati un po' più rallentati perché ci si era impegnati tanto per poter portare più risultati e ritornare in ognuno di questi luoghi con le cose fatte. Nonostante questo io incontro invece tante persone che hanno vissuto questo distacco come interruzione brusca dell'amministrazione come un'ingiustizia e mi sforzo, vogliono capire bene cosa è successo, perché è successo e appunto sotto questo profilo non mancano di stimolarmi e di guidarmi ancora una volta a risalire, a ritentare questa candidatura, perché vivono veramente tutto questo come un'ingiustizia. Le risposte vanno date e vanno date nei tempi giusti. Nessuno ha la bacchetta magica ed è importante dire questo ai cittadini, fare capire quali sono state le difficoltà, cosa si è potuto fare, cosa si stava facendo senza false illusioni, se si ha veramente rispetto e dignità proprio e soprattutto per questo. Quindi c'è un'interlocuzione seria. Seria, in qualunque angolo mi sono recata in questi giorni, ovviamente al di là delle difficoltà c'è ancora chi continua a darci profondamente fiducia. Grazie.